salve a tutti e benvenuti nella mia scrap room io sono sandra e oggi vediamo come realizzare dei segnalibri origami come questi a forma di cuore guardate un po prendiamo il segnalibro lo inseriamo sulle pagine chiudiamo ed abbiamo oltre ad avere il segno anche una bella decorazione prendiamo un foglio di carta origami che misura 15 x 15 centimetri il mio è decorato da entrambe le parti pieghiamo prima metà poi ripieghiamo riapriamo e pieghiamo fino a metà giriamo ed andiamo a fare una piega diagonale rigiriamo ripieghiamo fino al bordino giriamo nuovamente e andiamo a fare la parte superiore del cuore ripieghiamo la parte superiore del cellulite gli spieghiabili sinceri la parte superiore del acS il segnalibro è pronto semplice e veloce, no? spero vi piaccia a presto, ciao ciao